ah Si accentra anji sa apre a memoria in corsia però non è ancora arrivato mario ruoli e non può arrivare adesso deve tornare stava recuperando e approfitta Insigne Zilinski non mi e si offre per ricevere il pallone go vittorino 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 Cacarese con un rimpatto e sfiora a distrire i croni dispariamo e fanno piacere all'allegria fermi in fondo al lato destro della classificjaz in maniera e lo troco di sbattasana ancora Paulitano oh oh la mar excel capito le x pop e mi e me le x pop e mi bellocine e tirano solo per ruben d'un anche questa ehi, guarda qui Sera di che palla insieme ACHI NONO EEEEEEEE si sta a ma... a ma durmennere la palla bambini a ma non hai palla lì e comunque deve cercare di alzare il centro ma allora lo stanno bene fino a 5 minuti trafini in una in zero hai capito? come cazzo sta bene fino a 5 minuti trafini e poi fanno la rimbaccia e mi maradona ci sta a ma... una palla trafini e i genna una palla eeeeeee a spia dei modi eh bisogna avere un grande gara l'attaccante qui bravo da appoggiare SI se no ma fare sì da Zilinski ma fare sì da Zilinski ma fare sì questo che dico sono cose serie allora mazzarri è un battico e spero di arrivare a questo risultato fino a cinque minuti che finisce la partita ok i calciatori di Napoli hanno capito che sono superiore o pagliere ma non va bene se non facciamo noi a zero appena comincia la ripresa e arriviamo a cinque minuti la partita ho chiesto risultato il studio della televisione è una vacca spero di essere smentiti i primi cinque dieci minuti della ripresa attenzione fuori per il mancino di prima intenzione di politano non semplice si mi colpisce forte questa palla devi per forza è un applauso è un saluto e contro cranio ma non fai niente Per l'abitro come dire pure a essere ammigliato Ammigliato pure con il pentino L'abitro e il gioventino, l'ammigliato L'abitro e il gioventino, l'ammigliato e c'è E si è il primo Vuti! Vuti! Carostai! dove sei? E lei? S'è un tagliolo a itkè? Non ce l'ha buscata Dove sei? Dove sei? Con la testa sulle lenzuola Dove sei? Tu quando haci tre penne è? non fa niente però noi siamo primi e tu sei ancora oggi tu domani cosa ti mangi io domani ti mangio pasta e caccioli ti vedi tu cosa ti mangi domani ti mangi la polenta polenta noi ci mangiamo pasta e caccioli e tu ti mangi la polenta ma che stanno i commenti tu lo sai quanto ti vedi ci puoi sempre mangi la roba ma il fritto o il fegato non c'è niente da fare capa ruso qua tenuto la capa ruso qua tenuto la carriera quando vai a fare la compiola ma sono un po' fastidio e poi lascio sto manichino prima roba si spezza lo manichino lascio sto manichino la prima roba si chi non li può andare sempre tutto bene andate a casa no silenzio silenzio guardiamo in alto verso giù guardiamo in alto verso giù è vincito che la partita da sambatore ma non mi è cucchiata niente dove eri la sei rimasto scietta testi noticino sotto l'anzuolino e domani vai al campo e se ne riparlerà domenica ok ciao